Circa il 40 per cento della popolazione mondiale vive con meno di due dollari al giorno. Ridurre la povertà e la disuguaglianza negli standard di vita è una delle sfide più importanti della nostra politica economica. La ricerca è la forza propulsiva dell'università, è ciò che la distingue da una scuola di formazione. La passione per la ricerca aiuta noi docenti ad essere degli educatori migliori e a portare cambiamenti nella società civile. Le cattedre intitolate consentono di perseguire l'eccellenza nella ricerca e di essere innovativi nell'affrontare domande e progetti ambiziosi. È importante sostenere la ricerca, ci aiuta a dare a chi prende decisioni gli strumenti per fare scelte migliori. La Bocconi mi ha dato tantissimo da quando ero una studentessa al DES. Adesso cerco di restituire all'università quello che ho ricevuto impegnandomi per l'istituzione e seguendo a mia volta studenti molto brillanti che spero avranno una carriera altrettanto soddisfacente.